Passano i giorni come prevedibile e gli animi dei concorrenti del Grande Fratello si scaldano. Tra confidenze notturne, rivelazioni piccanti, lo abbiamo raccontato nell'articolo che trovate poco più sotto, riavvicinamenti e liti furiose l'attesa della prossima puntata cresce sempre di più. Alfonso Signorini tornerà in diretta lunedì e di sicuro affronterà di nuovo le vicende sentimentali di alcuni dei protagonisti. Stiamo ovviamente parlando di Lorenzo, Shaila, Avier e anche Elena Prestes, perché ci sono delle novità. Il primo, infatti, sta accusando e non poco il colpo ricevuto nella casa. Esfogandosi con Amanda Lecciso ha detto di volere fuori dalla casa entrambe le inquiline che l'avrebbero fatto soffrire nelle ultime settimane. GF, Lorenzo furioso, le voglio fuori. Lorenzo ha preso le distanze sia da Shaila che da Elena e all'amica Amanda non ha nascosto la rabbia che prova nei confronti delle coinquiline con le quali ha flirtato per qualche settimana. Io sono stanco, le sue parole, ci sono stati scontri troppo forti e con parole che non merito. Io non ho fatto nulla di male, Shaila e Elena mi hanno fatto del male, mentre io sono sempre stato corretto e buono, non le ho mai insultate, ha detto ancora aggiungendo di essere molto deluso da entrambe. In questo momento le voglio fuori dalla casa, mi si è chiusa la vena, il colpo finale. C'è un altro argomento che signorini non potrà ignorare, però, l'ennesimo scivolone di Lorenzo sempre a proposito delle due. Shaila e Elena si meritano un uomo che, non fatemi parlare che è meglio, ha detto autocensurandosi. Il pubblico si è scagliato duramente contro di lui con messaggi come questo soggetto diventa sempre più pericoloso, donne evitatelo uno così, questo mi fa paura.